La notte è un'insidia per una ragazza da sola. Le nostre strade non sono più sicure. Madame Carvier, arrivo adesso dall'appartamento di Werner. Come se la passa? Mi spiace, ma Werner è morto. Morto? Vuole qualcosa da bere? Werner è rimasto ucciso. Come è successo? È tutto così confuso. Sono arrivata oggi da Londra e lui era in piena crisi di panico. Mi ha detto che l'avrebbe contattata. L'ha fatto e non me l'aspettavo. Non dopo l'Egitto. Werner temeva per la sua stessa vita. Ha accettato una commessa cinque settimane fa. Dall'ora si è comportato in modo molto strano. Mi ha anche lasciato un pacco perché lo custodissi. Un pacco? Il suo portatile, indirizzato a lei. Da chi arrivava la commessa? Da un cliente di nome Eckhart. Voleva che Werner ritrovasse dei dipinti chiamati Obscura. Werner si è rivolto al mio dipartimento dell'Uvo. Dipinti Obscura? Cinque quadri del quindicesimo secolo che si dicono legati all'alchimia e alle arti oscure. È stata in grado di aiutarlo? In parte, almeno credo. Il povero Werner era terrorizzato. Werner aveva il sangue freddo. Credeva di essere pedinato. Poteva anche esserlo. Secondo la stampa europea, il Monstrum si aggira per le strade di Parigi. Madame, poco fa ha menzionato il diario di Werner. È il suo diario degli scavi. Voleva che fosse lei ad averlo, nel caso gli fosse successo qualcosa. Per farlo, doveva essere proprio terrorizzato. Mi dica, cosa gli è accaduto? Preferirei non doverne parlare. C'è stato uno sparo, ed è tutto quello che ricordo. Sparo? Ma allora è stato ucciso? È stata lei? Non ricordo. È tutto così sfocato. Miss Croft. Credo proprio che dovrebbe parlare con la polizia. Madame, Werner e io siamo stati grandi amici un tempo. Non l'ho ucciso. Non sono stata io. Se lo dice lei. Ce l'ha lei il diario? Sì, per il momento è al sicuro. Devo poter dare un'occhiata al diario di Werner. Qualcuno ha ucciso Werner, e lei afferma di non ricordare cosa sia accaduto. Forse la polizia ha ragione a sospettare di lei. Torni in lei. Non l'ho ucciso io, Werner. Se ne vada, Miss Croft. Il diario? Non so se sia la cosa giusta, ma devo rispettare il volere di Werner. È la scelta giusta, madame. Arebbe meglio a sparire. La polizia sarà qui da un momento all'altro.